Sull'Italia è presente l'anticiclone nordafricano che la prossima settimana invece tenderà a ritirarsi per l'arrivo di correnti progressivamente più fresche dall'Atlantico. Nel dettaglio per la giornata di sabato avremo sulla regione prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso, con gran caldo in pianura nel pomeriggio. Le massime toccheranno i 34-35 gradi, mentre sulla costa le massime saranno intorno ai 31, minime sui 25 lungo la costa, intorno ai 20 gradi in pianura. Dal pomeriggio è possibile che sui monti vi sia qualche isolato temporale. Per quanto riguarda domenica avremo una giornata ancora decisamente calda, specie nel pomeriggio in pianura, e il cielo sarà in genere poco nuvoloso. Il caldo sarà quindi affoso, sulla costa mitigato dalla brezza. Dal pomeriggio sui monti qualche rovescio e qualche temporale, più probabile in Carnia e nelle zone a ridosso del Cadore, ma possibile anche sulle altre zone. Qualche temporale sarà possibile in maniera limitata all'alta pianura anche in serata. Per quanto riguarda la costa, in serata avremo caldo ancora affoso. Per l'inizio della prossima settimana aumenterà la probabilità di temporali sulla regione, in particolare in montagna, ma progressivamente potranno raggiungere anche la pianura e poi la costa. Il caldo gradualmente tenderà a lasciare posto a correnti più fresche che arriveranno probabilmente tra martedì e mercoledì. Dall'Osservatorio Meteor Regionale dell'Arpa, un saluto da Marcellino Salvador.